Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i piscatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornaccia ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro, per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. C'è un'immagine molto forte nel brano di Vangelo che la liturgia ci consegna per questa giornata. È il nostro pane quotidiano. Gli getteranno nella fornaccia ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Ci suona difficile ascoltare queste parole all'interno del Vangelo che è l'annuncio della buona notizia del Signore Gesù. Che cos'è questo pianto e questo stridore di denti? Se ci immaginiamo uno che stride i denti, uno che piange e uno che sostanzialmente si sta mangiando le dita e l'invidia per qualcosa che potevo scegliere e non ho scelto. La parola di oggi ci parla di una pesca e di una scelta che viene dopo la pesca. Alcuni pesci vengono presi, altri vengono gettati. Ci fa molto bene ascoltare questa parola nuda e cruda. Al giorno d'oggi dove va bene tutto, viviamo in un contesto dove tutto è permesso, in tutti i campi, a tutti i livelli, viviamo un relativismo senza confini, dove quello che conta è ciò che io decido. Va bene tutto? No, ci dice il Vangelo non è vero che va bene tutto. Al termine ci sarà un giudizio sulla vita, un giudizio sulle scelte, un giudizio sulle azioni, un giudizio sulle parole, un giudizio su tutto, un giudizio sulla vita. E questo non ci viene detto per incuterci paura, ma il Signore ce lo dice per farci comprendere che nel mio oggi si gioca il mio domani. Le mie scelte di oggi decidono una felicità eterna o una dannazione eterna. Ciò che io scelgo ha delle conseguenze. La cosa che io scelgo oggi dove mi porterà domani? Se faccio questo dove andrò a finire? Se faccio quell'altro dove andrò a finire? La parola di oggi è uno sprone a metterci in ascolto della parte più vera di noi stessi, la parte più profonda, il nostro spirito. Lì dove il nemico non può entrare, dove ci sono solamente io e il mio Dio. E lì ascoltare quello che lui suggerisce alla mia vita, a tal punto da farlo diventare la mia mente, i miei sentimenti, i miei pensieri e poi le mie azioni. Sì, questa parola forte il Signore non ce la dice per paura, perché non si vive, non si sceglie per paura, ma il Signore ce la dice perché possiamo agire nella libertà e nell'autenticità di quello che siamo, proprio per trovare la vita, per essere quello scriba che è capace di tirare fuori cose nuove e cose antiche e fare sintesi dentro di sé, la sintesi per quella scelta che oggi mi si presenta davanti per poter essere scriba del Regno, figlio di Dio, perché attraverso la mia vita possa emergere una vita più grande che quella del Padre.